Allora, sei pronto? Andiamo col Chuck. Motore. Spot Nuova Contech Scena 1 Take 1. Aspetta, aspetta, lo dico io. Partito. Lo dico io. Chuck. Spot Nuova Contech Scena 1 Take 1. Nome. Ramiro. Cognome. Pesa. Sei contento di essere qui con noi, Ramiro? Vogliamo dire dove ci troviamo, Ramiro? Sì, sì. Beh, diciamolo. Dove ci troviamo? Beh, in Friuli Venezia Giulia. Certo, in Friuli Venezia Giulia. E più precisamente? Guardando la cartina dell'Italia in alto a destra. Sei molto simpatico, Ramiro. Più esattamente, dove siamo? C'è la Pedemontana, poi c'è la montagna, Sottomonte e proprio... Sì, ma il nome del posto in cui noi ci troviamo ora? Monte Reale Valcellina. Perché c'è proprio il Cellina e poi c'è il Monte... Stop, stop, stop. Aspetta, aspetta. Monte Reale Valcellina. Sei molto bravo. È stato un po' più a sinistra, però. Rena, è in posizione giusta? Sei bravo? Va bene. Però mi devi dire Nova Conte, capito? Si vede che c'è... No, si vede, tu me lo devi dire. Lo spolpa ai ragazzi. Si, ma tu me lo devi dire. Me lo devi dire. Lo devo dire. Ho speaker, ti chiede dove ci troviamo. Anche se si vede. Anche se si vede. Anche se si vede. Paolo, l'audio era un po' alto. Anche se si vede. Anche se si vede. Anche se si vede. Rifavo. Non fai un coglionato eh. Dai. Dai, veloce che poi andiamo a mangiare. Eh, ciac. Ti stai? Rami. Paolo, a posto? A posto, a posto. Renato? A posto. Dai, l'odore. Anche se si vede. Ciac. Spot, Nuova Conte, Scena 1, take 7. Allora, Ramiro. Dove ci troviamo? In questo momento tu ti trovi? Eh, beh... Lo diciamo per i nostri amici a casa. Sì, anche se si vede. Certo, lo diciamo per loro, anche se si vede. Nuova Conte. Benissimo. Siamo in Nuova Conte. Contec. E cosa facciamo noi in Nuova Conte? Ci facciamo un bulo così dalla mattina alla sera, perché qua c'è... Certo, lavoriamo, lavoriamo solito, con passione, entusiasmo, sempre in serenità però, no? Sì, anche se certi giorni sarebbe bello stare a casa perché qua sono un po'... Stop, stop, arrivi, arrivi. Lei deve provare. No, 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 dovrebbe provare a venire qua. No, noi famo uccelli, mi devi dire che famo uccelli, non stiamo fanno spot, non una cosa sindacale, capito? Tu devi dire, famo uccelli di tutti i tipi, sono qua, lo vedi? Mi vedi, telecamera, attrezzatura, uccelli di tutti i tipi. Mi faccia le domande giuste? Come ho fatto? Che famo? Famo uccelli? No, no, mi faccia la domanda giusta, devi fare le domande. Tu devi pensare prima di parlare. Devo pensare. Devi pensare. Devo pensare. Ti diamo una tamponata, guarda, Fra, dove sta? Devo pensare. Avete una foto? Linda! Dove sta Linda? Devo pensare. Come al solito, Linda, andate, ah, Linda, fammi una foto. Devo pensare. Tu devi pensare prima di sparacazzare. Devo pensare. Devo pensare e poi parlare. E non risponde. Lo fai lo scemo, dai. Dai, dai, veloce, Linda, dai, fa un film. Devo pensare. Tu devi pensare. Prima di rispondere devi pensare. Non è difficile, eh. Namo, motore. Partito. Urla troppo, Paolo. No, no, siamo un po' in po'. No, vabbè. Partito. Ciao. Spot Nuova Contec, se ne ha uno, te, 15. Allora, noi Nuova Contec facciamo? Ramiro, che facciamo noi il Nuovo Contec? Beh. Ramiro. Ramiro. Ci sto pensando un'altra cosa. Ma vuoi di, ugelli? Ma vuoi di? Ugelli di tutti i tipi. Sono qua i migliori ugelli del bonno. Ma vuoi di? Lo volevo dire subito. Ma che volevi dire subito? Non l'hai detto? Dopo mezz'ora non sbotte. Ti ha detto di pestarci. Ma vuoi dire, famo veloci, poi andiamo a mangiare. Adesso stanno sparagassati. Allora, ci pensiamo, mi dia il tempo di pensare. No, il tempo, tu non devi pensare, mi devi rispondere. Ma, devo pensare o non pensare? Perché qua allora... Ma fratelli, io lo strozzo tu. No, no, fratelli che pensa? No, fratelli, lo dico io. Prendete uno bravo, no, uno... Ultima volta. Sì, ma uno... Famo veloci, dai, ultima volta. Poi te strozzo. Ma neanche in macchina, a cavallo, se ne ho... Ma chi è che l'ha scelto questo? Abbiamo detto, famo veloci, poi se ne andiamo a mangiare... E questo sta sparagassato. Ultima volta, eh. Ultima volta. Dai, famo veloci. Paolo. Eh. Ultima volta, Dio tu, io lo strozzo. Famo veloci. Ultima volta. Ultima volta. Famo veloci. Eh, Renato. Famo veloci. Famo veloci. Motore. Stato. Oh, sta attento, Paolo. Scusa, scusa. Ciac. Spot Nuova Context, scena 1, take 29. Allora, Ramiro, noi Nuova Context facciamo... Veloci. No, ma io te strozzo. Ma io te strozzo. Ma io mi dà il tuo cazzo di roba. Sti cazzo di uccidi e merda. Io te strozzo, fratello. No, no, no. Non lo avete pervare. Do sta l'altro, fratello. E ho strozzo pure a lui. Oh, no, è proprio un rosso. Stato questo. Ma che ha trovato lui? No, ma che ha trovato lui. Stato questo. Stato questo.